Andate verso est? Sì, certamente. Anch'io. Vedi te darmi un passaggio verso il confine? Per forza, monta l'uomo. Allora. No, allora. Sì, allora. Gente è roba. Allora, scelta. Sì. Senta. Forse lei lo sa già. Ma dicono di una spedizione di marziani che vengono a succhiarci quello che abbiamo dentro per assumere le nostre sembianze. La ragazza non potrebbe essere una marziana. Gli spiriti non dovrebbero esistere. E poi a quell'ora non so nemmeno perché mi sono fermata. Ma sì. Era una ragazza così carina, così distinta. Ho pensato, poveretta, forse ha avuto un incidente o è rimasta senza benzina. Appaiono etere e fanciulle nelle galassie che gridano, attenzione a questa cometa. E poi spediscono. E poi spediscono.